Ander Bruzzi Come si rialza? Come può rialzarsi la squadra da questo momento? La squadra, io sono convinto, qualcuno mi prenderà pescemo, però io sono scusato il termine, io sono convinto che la squadra è buona, è valida. L'abbiamo dimostrato col Palliano, che abbiamo vinto lì, in Coppa. L'abbiamo dimostrato con la partita prima a Ciampino, che è comunque una squadra candidata alla vittoria finale. Abbiamo perso di un gol non benissimo, diciamo. E niente, ci dobbiamo rialzare come? Ci dobbiamo allenare, ci dobbiamo chiudere la bocca, dobbiamo correre sul campo, lottare, fare quello che facevamo fino a qualche tempo fa. Mister De Clemente, il Cittadino di Tornomarina strappa tre punti d'oro qui a Cisterna. Sì, strappa, hai detto bene, abbiamo strappato tre punti d'oro perché penso che la differenza l'abbia fatta solamente un pizzico di entusiasmo. Perché poi a livello tecnico e tattico si vedeva che noi siamo ancora inesperti, siamo acerbi, e dall'altra parte invece c'era più di qualche elemento che mostra le proprie caratteristiche. E quindi fin dal primo minuto insomma ho cercato di caricare i ragazzi proprio per riuscire in qualche modo con l'entusiasmo a sopperire a quelle che sono le nostre lacune. Diciamo che in questo momento è quello che ci sta riuscendo bene, avere l'entusiasmo. Ecco, entusiasmo ma comunque anche cinismo, quel cinismo mostrato nel corso del suo tempo, quando praticamente la partita per buona parte, almeno l'ha fatta la formazione di casa, mentre voi poi siete riusciti a ripartire e a siglare più gol. Sì, diciamo che comunque cinica sì, ne abbiamo sbagliati tantissimo, abbiamo sbagliato molte ripartenze. Loro, diciamo che secondo me, poi non so, penso che Angelletti sia più esperto di me, posso dire insomma che secondo me abbiamo forse spezzato quello che era il loro gioco, quindi la loro tranquillità nelle teste delle ragnatele. Infatti nel secondo tempo il mister Angelletti, che è un vecchio colpone, aveva sicuramente detto insomma di scavalcare quella che era la fase offensiva nostra, cioè di pressione nostra con dei pallonetti se si è fatto caso da un lato verso l'altro. Però noi ci ha detto bene perché nel fare questo erano un po' lenti, allora ci dà uno modo di stringere un po' un'area di rigore. Siamo contenti. Grazie. Grazie.